Quanto è stato più facile girare con un gruppo di attori già consolidato? E' stato sicuramente facile proporzionalmente alla difficoltà del materiale che dovevano gestire. Se non avessimo fatto insieme otto episodi nella scorsa stagione forse non sarebbero stati pronti ad affrontare il bagaglio emotivo di questa nuova stagione. Per cui è stato un viaggio che si è fatto insieme e che sicuramente arriva a questa espansione emotiva così potente perché tutti noi abbiamo viaggiato in questo abisso che la storia della serie racconta. E' l'abisso di una famiglia che non sa trovare riparo dai propri demoni. Grazie. Invece parlando di serialità si parla molto di serie contro cinema. Che cosa le ha permesso di fare in questo senso, in questo caso la serialità lungo le due stagioni? Dunque il lusso più evidente che ho riscontrato nel poter maneggiare un metraggio così lungo perché otto episodi corrispondono otto ore rispetto a un film che non può di solito andare oltre le due. Se si dura due ore e dieci un film è già abbastanza lungo se non troppo lungo. Per cui ero abituato a gestire le emotività e i cambi di pensiero in un modo molto più sintetico rispetto a quello che invece la serialità ti permette di fare. Ed essendo un indagatore di anime e di umanità e di relazioni umane il vantaggio che ho scoperto nel poter avere il tempo per esplorare realmente questi personaggi e raccontarli e conoscerli e indagarli e capire perché fossero in quel modo e da dove venissero. e perché facessero quelle scelte così a volte incomprensibili o sconsiderate o compulsive. Tutti questi motivi li riesci a raccontare all'interno di una serialità perché hai il tempo. Cioè ad ogni personaggio dedichi più o meno un'ora rispetto ai 10-15 minuti che avrebbero a disposizione se fossero all'interno del film corale con otto o nove personaggi e la durata di due ore di fruizione. Quindi è ovvio che ci sono molte cose che ho apprezzato e che mi hanno anche fatto imparare e dato molto. E sempre parlando di serialità, quali sono le serie che ha amato di più? Ha dei riferimenti infatti di serialità? Questa serie prosegue filmicamente un po' il mio linguaggio per cui non mi sono appoggiato ad una serie piuttosto che un'altra. Ci sono serie che mi sono piaciute e che mi hanno fatto riflettere molto sul mio tipo di cinema. Forse la prima serie che mi ha veramente fatto fare le ore piccole è stata Breaking Bad. Breaking Bad ha segnato in qualche modo fortemente quello che poi sarebbe accaduto, ovvero la messa in crisi del cinema come linguaggio che era più elitario rispetto alla tv e la tv ad un certo punto quando è uscito Breaking Bad e ancora di più quando è uscito House of Cards che metteva per la prima volta attori di prima fascia in televisione, lì la tv ha fatto un passo che ha messo in crisi letteralmente Hollywood e da questa crisi Hollywood non è mai più uscita perché il pubblico di qualità ha trovato in televisione prodotti di altissima qualità. Forse oggi sono anche troppi e ci si perde in questo mare di offerte. Però la qualità cinematografica di alcune serie è molto alta ed è paragonabile a quella del cinema. E questa cosa ha chiaramente confuso chi faceva cinema. Parlo dei produttori americani che facevano un cinema che era chiaramente sopra come livello rispetto alla tv. E oggi non è più così. O perlomeno ci sono serie che non sono più prettamente televisive. sono girate come un film molto lungo in cui i personaggi hanno una capacità di raccontarsi molto più vasta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.